Buon pomeriggio e benvenuti all'incontro con il percorso per le competenze trasversali e l'orientamento, il museo a scuola. Ideato e organizzato dal Sistema Museale di Ateneo dell'Università di Pisa, nelle persone della Presidente del Sistema Museale di Ateneo, professoressa Chiara Bodei, delle dottoresse Valentina Grasso e Marianna Saliba dello staff del Sistema Museale di Ateneo, che colgo l'occasione per ringraziare, e della sottoscritta coordinatrice organizzativa del Sistema Museale di Ateneo. Un grazie va all'imprescindibile supporto che ci è stato dato da Medi Eventi dell'Università di Pisa. Il nostro percorso attraverso i musei universitari della città di Pisa oggi ci accompagnerà alle collezioni egittologiche, di cui ci parlerà la direttrice, professoressa Flora Silvano, che approfondirà l'argomento salute e bellezza nelle collezioni egittologiche. Grazie Flora a te e a tutti i relatori che ti hanno preceduta. L'ultimo ringraziamento sento di doverlo fare a voi studenti, che avete partecipato numerosissima ai nostri incontri. In alcuni incontri siete stati anche oltre 500. In tutto, dal primo all'11 marzo, abbiamo registrato 2622 presenti. Vi ringrazio anche perché avete rivolto ai relatori domande che hanno costituito spunti interessanti per approfondire aspetti che hanno reso più vivaci i nostri incontri. E naturalmente ringrazio quelli di voi che hanno svolto la funzione di moderatori e che ricordo Damiano Barzotti e Tommaso Ficini, qui presenti anche oggi, del liceo scientifico statale Ulisse Dini di Pisa, Sara Montana del liceo scientifico a potenziamento internazionale Antonio Pesenti di Cascina, Chiara Pallottino e Pietro Salvetti del liceo scientifico Filippo Buonarroti di Pisa. Ringrazio anche tutti i vostri insegnanti che stanno partecipando agli incontri e che seguono il vostro lavoro coordinandosi con il nostro staff. Ci stanno già arrivando i record e li stiamo già analizzando e si sono rivelati tutti molto interessanti. E a proposito delle vostre domande ricordo che essendo giunti al secondo venerdì, al termine di questo incontro Damiano Barzotti renderà noti i nomi dei vincitori dell'abbonamento annuale per famiglie per visitare l'Orto e il Museo Botanico dell'Università di Pisa, che ricordo ancora una volta, potrete andare a ritirare direttamente al Bookshop dell'Orto a cui si accede da Via Lucaghini tutti i giorni, da lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 17.00. A questo punto do la parola alla professoressa Flora Silvano. Buonasera a tutti, anzi buon pomeriggio. Ringrazio Sabrina per questa presentazione. Prima di passare a quello che sarà il tema del nostro incontro di oggi, nel quale come sapete parleremo del concetto di bellezza, di tutte le pratiche cosmetiche e dei rimedi mediante i quali nell'Egitto dei Faraoni si tentava, tentava già allora come oggi, di migliorare il proprio aspetto in ogni modo possibile, farei una piccola introduzione, come già altri colleghi hanno fatto, una piccola introduzione per illustrarvi i motivi per i quali la città di Pisa può vantare una raccolta di reperti di origine egiziana così importante come quella delle collezioni egittologiche, di cui io sono la direttrice. Dunque, le collezioni egittologiche si trovano nel centro di Pisa, in via San Frediano, al numero 12. Praticamente, ora vi faccio vedere, dobbiamo salire al primo piano dove troveremo il bookshop e il ricevimento, l'accoglienza per i visitatori. Ecco, da qui si accede alla prima delle due sale, che è riservata alla collezione Schiff-Giorgini. Questa collezione venne donata all'Università di Pisa nel 1964 da Michela Schiff-Giorgini. Michela Schiff-Giorgini, che vedete nel busto in fondo a destra, era un'archeologa che ha condotto per vent'anni, dal 1956 al 1977, proprio sotto il patrocinio dell'Università di Pisa, numerose campagne di scavo. A Soleb e Sedinga, siamo fra la seconda e la terza cateratta del Nilo. Tutto questo territorio per molto tempo è stato sotto il dominio dell'impero egiziano e quindi naturalmente faceva parte, diciamo, del grande impero egiziano. E se la maggior parte del materiale proveniente da questi scavi è rimasto in Sudan, e lo si può ammirare oggi al Museo di Khartoum, la quasi totalità dei reperti che il governo sudanese aveva attribuito, questa era la constitudine di quegli anni, alla direttrice della spedizione archeologica, alla quale vennero regalati esattamente la metà degli oggetti che aveva scoperto. questa parte della Cif Giorgini, praticamente di proprietà della Cif Giorgini, venne donata all'Università di Pisa. Grazie a questo dono, quindi, la città di Pisa può vantare oggi una collezione di alcune centinaia di pezzi che costituisce una delle maggiori raccolte che esistono fuori dal Sudan. Lo splendido tempio di Soleb, che vedete nella diapositiva, fu dedicato da un grande sovrano della diciottesima dinastia, Amenofi III, siamo all'incirca nel XIV secolo avanti Cristo, al dio Ammone e a se stesso divinizzato. Nella diapositiva successiva potete vedere la missione al completo, vedete sono tutti gli operai, l'architetto, la stessa Michela Cif Giorgini che è raffigurata seduta in basso a destra, all'interno di questa enorme struttura templare e da questo tempio che Amenofi III aveva fatto costruire, viene il torso in diorite appartenente a una stata a grandezza naturale di Amenofi III, un vero e proprio capolavoro dell'arte plastica faraonica che possiamo ammirare assieme a altri frammenti che vengono tutte da statue di questo tipo in una vetrina delle collezioni. Sempre nelle nostre collezioni abbiamo questo bellissimo ritratto di Amenofi III in un blocco di arenaria rosata, vedete il faraone è raffigurato con il casco da guerra, il casco blu, Keperesh e l'ureo in posizione frontale che è simbolo di regalità. Naturalmente la collezione conserva anche molti oggetti che provengono dalla necropoli di Soleb. La necropoli perché? Perché tutti questi funzionari, sacerdoti che lavoravano prima alla costruzione del tempio e poi al suo funzionamento finirono per vivere la vita in questa remota regione e lì trovarono poi la morte e vennero sepolti. Quindi dalle tombe di questa necropoli vengono moltissimi oggetti, questi sono solo alcuni di cui poi parleremo nel resto della nostra conversazione e si possono ammirare molte tipologie di oggetti. Michela Cifugiorgini abbiamo detto che si dedica anche a un altro luogo, Sedinga, che si trova a 15 chilometri più a nord di Soleb perché? Perché lì Amenofi III sceglie di costruire il tempio per la sua sposa regale la regina T e nel corso delle campagne di scavo fra il 63 e il 66 la missione archeologica individua nei pressi di una vasta zona funeraria perché anche lì esiste una grande necropoli vicina al tempio fatto costruire per la regina T, di un'epoca però nettamente posteriore, diciamo che siamo in un periodo che va dal III secolo a.C. al III secolo d.C. Da alcune tombe di questa necropoli provengono vari oggetti fra cui questa statuina di bronzo del dio Osiri con il volto ricoperto da foglia d'oro e soprattutto il calice che è diciamo uno dei pezzi più belli della nostra collezione, questo calice è di vetro blu colorato con ossido di cobalto con decorazione a smalto dipinta e dorata e venne ritrovato nel 1970 assieme ad un altro molto simile per dimensioni, colori e decorazione che oggi si trova al museo di Khartoum, tutti e due furono trovati spezzati, lo potete vedere in uno stato frammentario vedete è stato ricomposto, ci sono delle piccolissime integrazioni e perché? Perché tutti e due furono sono praticamente spezzati volontariamente, quindi infranti volontariamente nel corso di particolari rituali funerari che si svolsero all'interno della sepoltura. L'iscrizione che voi vedete in alto in caratteri greci che sono squadrati nell'esemplare pisano e stondati le lettere, nell'altro calice quello che si trova a Khartoum dicono praticamente bevi e possa tu vivere e questo è costituisce uno dei più antichi esempi in un contesto sicuramente pagano perché il calice è datato al terzo secolo dopo Cristo di una formula che poi troverà grandissima diffusione in ambito cristiano perché naturalmente fa riferimento a una seconda vita dopo la morte. L'iscrizione greca e il tipo di particolare di lavorazione che richiedeva sicuramente ma stranze molto molto qualificate perché non è semplice naturalmente apporre una decorazione su un vetro soffiato perché la decorazione implica naturalmente il reinserimento dell'oggetto in vetro all'interno del forno e quindi qui ci voleva un operatore molto competente per fare questa operazione. Ci suggerisce che probabilmente questo oggetto era stato fabbricato a Alessandria d'Egitto e poi trasportato fino a questa remota regione a sud dell'Egitto praticamente. Dalla prima sala passiamo alla seconda sala dove troviamo la collezione Picozzi la collezione Picozzi anche questa fu lasciata in eredità all'Ateneo Pisano nel 1962 è la prima delle collezioni che arriva diciamo all'Università di Pisa e fu donata da Laura Birga, Laura Birga per mano dei figli Livio e Giuseppina Barbara Picozzi. La signora Birga era nata a Pisa il 27 marzo del 1881 e era in realtà una nipote di Gaetano Rosellini. Gaetano Rosellini era zio di un grande personaggio pisano, egittologo, il fondatore dell'egittologia in Italia e professore di lingue orientali all'Università di Pisa, vale a dire Ippolito Rosellini. Il nonno di Laura, quindi questo Gaetano, era un ingegnere, un architetto molto esperto e quindi come tale aveva partecipato alla famosa spedizione franco-toscana in Egitto e in Nubia del 1828-1829 diretta appunto dal nipote Ippolito su incarico del Granduca di Toscana Leopoldo II. Ho detto spedizione franco-toscana perché la spedizione toscana guidata da Rosellini e era affiancata da un'altra francese diretta da un altro personaggio molto importante, cioè Jean-François Jean Puglion, il decifratore dei geroglifici. La collezione, lo vedete, è conservata all'interno di questo mobiletto in stile gittizzante, creato appositamente per contenerla e donato assieme agli oggetti. La forma richiama nella parte superiore il pilone di ingresso di un tempio egiziano, vedete al centro c'è questa vetrinetta con gli oggetti più piccoli e poi sopra un obelisco che è destinata ad accogliere questi sette barattoli che contenevano la sabbia raccolta in varie località dell'Egitto e della Nubia. Quindi questo bel mobile doveva fare naturalmente, che seguiva la moda del tempo evidente, faceva la sua bella figura all'interno del salotto di casa Rosellini, vedete, era dotato di tutte queste mensole estraibili per cui si potevano vedere bene gli oggetti che erano collocati sopra e la collezione conta un centinaio di pezzi. Qui potete vedere il rotolo magico contesto etiopico che riporta una preghiera per proteggersi da vari tipi di malattie, demoni e diavoli e qui là sotto è un modello di pallina. Perché dico modello perché naturalmente una pallina da gioco non doveva essere fatta in questo materiale che è un materiale tipico egiziano, la faianz che ha un nucleo diciamo di quarzo polverizzato con questa in vitriatura colorata. Ma le palline con cui praticamente si giocava non erano fatte di questo materiale, erano fatte in materiale vegetale, a volte rivestite di cuoio. Questa quindi doveva avere un uso, un valore esclusivamente funerario, quindi per essere depositata nei corredi funerari all'interno delle tombe. Quindi lo vedete dal mobiletto ci sono oggetti diversi, quindi amuleti, statuine, scarabei e sono gli oggetti sicuramente più che rispondono di più al gusto di questo periodo dell'Ottocento e furono acquistati probabilmente sul mercato antiquario, forse alcuni ricevuti in dono da Gaetano Rosellini non lo sappiamo e molti sono veramente semplici ricordi di viaggio e niente di più, però sono molto importanti. Sono molto importanti perché sono legati naturalmente alla grande quantità di oggetti che venne riportata in seguito a questa spedizione in Egitto in Nubia da Ippolito Rosellini e che si trovano ora al Museo archeologico di Firenze perché naturalmente vi ho detto che la spedizione era stata commissionata dal gran duca Leopoldo II di Toscana. Ma sono collegati anche a una serie di, a un gruppo di oggetti egiziani conservati a Pisa nel Museo dell'Opera Primaziale del Duomo e furono donati al Museo dell'Opera Primaziale del Duomo già nel 1830 da Gaetano Rosellini, quindi appena al rientro diciamo dalla spedizione franco-toscana e per questo hanno la loro importanza. Nella seconda sala troviamo la terza collezione. La terza collezione questa volta non fu acquisita per donazione ma fu acquistata nel 1968 sul mercato antiquario. Dunque si tratta di una raccolta molto consistente formata da più di 1500 ostraca. Cosa sono gli ostraca? Sono dei frammenti più o meno grandi di vasi di terracotta usati anticamente come supporto scrittorio. Alcuni vedete sono esposti nella prima vetrina, quella che vedete a sinistra, ma la maggior parte sono contenuti all'interno di queste due cassettiere. Di cosa si tratta? Sono conti, nella maggior parte dei casi, ricevute che documentano gli affari di un'impresa commerciale che si occupava del trasporto di diverse merci, soprattutto cereali. Fra Ossirinco, che è questo luogo diciamo dove poi è stato trovato l'archivio, e l'Osi di Bahria, un'Osi del deserto occidentale. Oltre ai frammenti di vasi, sono utilizzate, lo vedete bene in questa diapositiva, ossa animali, in particolare di dromedario, come mi ha detto la collega Coli, che evidentemente erano usate come supporto scrittorio, lo vedete benissimo, e la maggioranza diciamo degli ostraca e delle ossa sono scritti in demotico. È diciamo un tipo di scrittura che in uso solo dopo il 600 avanti Cristo e molto usata anche nell'epoca greco-romana. Era un tipo di scrittura che veniva impiegata soprattutto per le esigenze della vita quotidiana, diciamo. L'archivio conservato a Pisa è completato dall'altra metà che venne acquistata dall'Università di Colonia. E quindi nell'insieme diciamo le due parti costituiscono un complesso documentario molto importante per la storia dell'economia e per l'organizzazione dei commerci fra l'Egitto e le Osi in epoca romana. Nella seconda sala si trovano anche i reperti che provengono dalle attività di scavo e di ricerca in Egitto da parte dell'Università di Pisa, attività di scavo che furono condotte dalla professoressa Edda Bresciani e oltre a questi reperti ve ne sono altri che sono stati donati da privati. In questa diapositiva vedete una serie di lampade, cioè di contenitori in vetro utilizzati come lampade. La cosa particolare sono quegli elementi troncoconici che vedete al centro che sono dei portastoppini. Quindi praticamente i portastoppini erano in grado di mantenere lo stoppino che era fatto in fibre di lino o di cotone, mantenerlo dritto, galleggiante diciamo sopra l'acqua sulla quale era stato versato dell'olio che manteneva naturalmente viva la fiamma in cui lo stoppino si andava a pescare praticamente. In un'altra vetrina vi sono oggetti molto particolari come queste sei placchette, vedete, di faianza, sempre questo materiale che è tipicamente egiziano, quindi sono di faianza azzurra e presentano su un lato l'occhio giat che è uno degli amuleti più diffusi, dei simboli magici più diffusi nell'Egitto antico e dall'altra una divinità, il dio Bess. Invece quella che vedete alla vostra destra è una maschera funeraria, è parte di una reticella funeraria che veniva praticamente collocata sopra il corpo accuratamente vendato del defunto e posta in corrispondenza del volto del defunto, quindi era una sorta di maschera che veniva applicata in determinati periodi della storia egiziana. L'ultima acquisizione delle collezioni è il sarcofago. Il sarcofago che in realtà si trova nella prima sala, lo abbiamo visto quando abbiamo parlato della sala Schiff-Giorgini ma si trova lì perché non c'era altro spazio per collocare questo pezzo di discrete dimensioni e il sarcofago e la mummia scheletrizzata di questo personaggio che ne era il titolare, Kenamun, come vedete scritto, sono stati al centro di una mostra dal titolo Kenamun, l'undicesima mummia, organizzata nel 2014 a Calci dal Sistema Museale di Ateneo e dal Museo di Storia Naturale. Quindi dopo questa mostra il sarcofago, che non è di proprietà dell'Università di Pisa ma è di proprietà dello Stato, è stato concesso alle collezioni egittologiche in deposito temporaneo assieme alla mummia. Ecco, la mummia scheletrizzata che si trova, diciamo, sotto il sarcofago invece è stata trasferita dalle collezioni del Museo di Storia Naturale di Calci e fu probabilmente donata dallo stesso Ippolito Rosellini al rientro dalla spedizione franco-toscana all'allora direttore del Museo di Zoologia Paolo Savi e quindi per questa via è arrivata fino alle collezioni egittologiche. Allora, se avete domande su questa prima fase... Sì, c'era una domanda di Matilde Guidi che chiedeva, a questo sarcofago appartiene sempre alla collezione ostraca? No, dunque questo non appartiene a nessuna collezione perché è stato praticamente dato in concessione a noi ma non è nostro la proprietà è praticamente del Museo archeologico di Firenze che ce l'ha concesso in deposito temporaneo quindi nel momento in cui loro lo rivolessero per un qualche motivo non siamo tenuti a darlo quindi è un'acquisizione un po' particolare diversa da tutte le altre che io ho citato perché abbiamo detto che alcune sono acquisite per donazione e altre sono acquisite per acquisto questo è un ulteriore modo di avere oggetti che però non sono di proprietà del museo ospitante Poi professoressa, avremo una domanda io riguardo agli oggetti, diciamo così, un pochino più piccoli di dimensioni minori che abbiamo visto nelle collezioni precedenti si può stimare un valore? Certo, il valore è necessariamente dato a ogni oggetto delle collezioni bisogna fare una differenza fra valore patrimoniale che naturalmente cambia a seconda del periodo perché più avanti deve essere rivalutato e il valore assicurativo naturalmente sono valori che cambiano anche a seconda dei prezzi che ci sono ora naturalmente come voi sapete non è più possibile acquistare antichità se non documentate cioè che non vengano da scavi illegittimi oppure da furti cioè ci deve essere un certificato che indica chiaramente qual è stato il modo in cui gli oggetti sono arrivati a noi perché per esempio in Egitto subito dopo la rivoluzione tantissimi siti sono stati saccheggiati tantissimi oggetti sono stati chiaramente rubati e venduti illegalmente alle varie società tipo Cristi e quindi cosa succedeva? Che sul mercato antiquario arrivavano oggetti che erano stati rubati e acquisiti in modo illegale quindi ora è molto sentito questo problema parlo naturalmente delle antichità egiziane perché sono quelle che conosco meglio e per esempio l'acquisto alle varie aste è molto più regolamentato a noi stessi ci è capitato di ritrovare sul mercato antiquario oggetti che erano stati rubati dal nostro sito di scavo e quindi naturalmente bisogna stare attenti a queste cose tanto è vero che molto spesso si vede nelle collezioni acquisizione ignota questo a volte è il sintomo di provenienza ignota e questo è il sintomo di una scarsa informazione su quello che è stato il passato dell'oggetto C'era anche un'altra domanda prof Mattia Martini chiedeva è possibile che il modello di sfera visto precedentemente fosse parte del corredo funerario di un bambino? Può darsi benissimo anche perché nei corredi funerari naturalmente sono sempre presenti gli oggetti che il defunto aspira a avere a sua disposizione nell'aldilà e quindi è probabile che il modello di una pallina da gioco si trovasse nel corredo funerario di un bambino o di una bambina molto possibile però in questo caso nel caso del Rosellini mentre per la Cifre Giorgini noi sappiamo esattamente il corredo funerario da che tomba viene perché la Cifre Giorgini ha donato assieme a questa collezione ha donato anche tutti gli archivi degli scavi e quindi abbiamo le schede di tutte le tombe della necropoli e le schede naturalmente che sono state fatte del materiale ritrovato nei due templi quello di Amenofi III e T nella collezione Picozzi come ho detto questo non è possibile perché non sappiamo assolutamente la provenienza degli oggetti che sono stati collezionati da Gaetano e che lui evidentemente aveva appunto comprato gli erano stati regalati in Egitto e aveva messo assieme chiaramente con grande cura in questo mobiletto fatto costruire appositamente per contenerli professoressa poi c'era un'altra domanda invece di Martina Carrani che chiedeva qual è l'oggetto di maggior valore tra le collezioni? il calice quello che vi ho fatto vedere il calice in vetro blu dipinto è l'oggetto perché? come mai ha maggior valore? ho detto che ve ne sono due al mondo questo di Pisa e l'altro al museo di Cartoon non c'è un altro oggetto neanche avvicinabile a questi due pezzi e quindi questo è l'oggetto più prezioso delle nostre collezioni però vedrete ora che ce ne sarà anche un altro molto 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 bello e importante lo vedremo ora quando parlerò degli strumenti della bellezza c'è anche un'altra domanda di Matilde Guidi che chiedeva quanti sono gli oggetti non so cosa volesse scrivere possibili contenuti nel museo sono più di 2000 se contate che solo 1500 sono gli ostraca quindi non so vuole sapere il numero esatto mi sembra strano ma comunque perché dunque la collezione Schiffr-Giorgini sono 250 oggetti sì sono più di 2000 ho detto bene e poi professoressa c'era un'ultima domanda sempre di Matilde Guidi che chiedeva quali sono le dimensioni dell'oggetto più grande del museo? il sarcofago ora francamente alla lunghezza non me la ricordo sarà un metro e ottanta perché non capisco come cioè va bene sì un metro e ottanta il sarcofago è sicuramente il pezzo più grande bene allora posso andare avanti con il tema dell'incontro di oggi? dunque il tema dell'incontro di oggi abbiamo detto dalle collezioni gittologiche ho scelto alcuni oggetti di epoche diverse significativi per illustrare le pratiche di cosmesi e di cura del corpo il forte desiderio da sempre sentito di abbellire il proprio aspetto in che modo? indossando naturalmente elementi ornamentali come collane orecchini anelli scarabei a volte vedremo anche in metalli preziosi quindi vedete niente di diverso da quello che accade nel mondo di oggi uno degli aspetti dell'antica civiltà faraonica che la rendono veramente singolare e moderna è l'importanza data al corpo umano che non è visto come fonte di peccato ma elemento positivo che deve essere rispettato e abbellito quindi nel mondo egiziano antico la cura rivolta alla salute e alla pulizia del proprio corpo aveva una parte fondamentale nell'igiene quotidiana della persona ma allora come oggi naturalmente la vanità spingeva sia gli uomini che le donne a cercare di rendere la propria immagine sempre più gradevole e abbiamo un grandissimo numero di riscette di bellezza arrivate nei vari papiri che ci mostra quanto questa esigenza fosse effettivamente sentita belletti trucchi e altri rimedi cosmetici erano utilizzati quotidianamente anche perché alcuni come vedremo avevano capacità medicamentose più che estetiche in effetti si deve dire che i confini fra i medicamenti e i belletti erano molto labili perché innanzitutto erano costituite dalle medesime materie prime e poi anche le persone che si occupavano della loro preparazione erano le stesse però indiscutibilmente l'abbondanza di ricette di bellezza nei papiri medici ci mostra quanta cura si dedicasse a migliorare il proprio aspetto e lo conferma anche la grande quantità di vasetti di flacconi e altri strumenti utilizzati nelle pratiche della cosmetica della cosmesi che ci sono arrivate e sono praticamente tutti oggetti che naturalmente ci sono arrivati come ben sapete perché deposti nei corredi funerari dei difunti molte ricette erano finalizzate a migliorare l'aspetto fisico eliminando le imperfezioni di sorta quindi primo fra tutte le rughe vecchio problema evidentemente e i capelli bianchi e varie sono le ricette per la cura della pelle esposta naturalmente come era i rischi del sole e del vento e un rimedio per esempio per trasformare la pelle così viene specificato utilizza miele natron e sale marino dunque il natron è un minerale che è composto da carbonato e bicarbonato di sodio e si trova in Egitto comunemente un altro rimedio per rendere perfetta la pelle così dice il diciamo la la specifica mette insieme a questi componenti la polvere d'alabastro naturalmente la polvere d'alabastro aveva un effetto abrasivo evidentemente perché dovete pensare che veniva polverizzata mescolata e applicata quindi era uno scrub lo possiamo definire come uno scrub questo natron praticamente possedeva l'Egitto ne possedeva grandi riserve veniva utilizzato anche sciolto nell'acqua per l'igiene della bocca e poi c'erano anche delle diciamo delle ricette più specifiche per togliere le rughe dal viso e lì si usava materiali del tipo vi faccio un esempio di quello che veniva utilizzato quindi la resina di terrabinto per esempio la cera e l'olio di moringa che è un olio vegetale molto particolare tutti questi ingredienti venivano pestati finemente messi in una mucillagine e applicati sul viso ogni giorno dice la ricetta proprio col risultato più che sicuro quindi erano molto convinti dell'efficacia di tutti questi rimedi e un'altra ricetta dice infallibile perché così dice proprio la ricetta è sperimentata un milione di volte si basava su due ingredienti fondamentali che erano la farina di semi di trigonella cioè il fiano greco e l'olio che si estraeva da questi e gli effetti erano eccezionali perché dice se il corpo viene strofinato con l'unguento la pelle diventerà bella saranno eliminate macchie e imperfezioni di ogni tipo saranno tolti segni della vecchiaia addirittura e le irritazioni di ogni tipo che siano sul corpo quindi erano rimedi molto importanti gli oli inlunguenti avevano un ruolo importantissimo nella vita di tutti i giorni l'unzione della pelle con sostanze oleose o grasse era una pratica igienica comune per proteggerla naturalmente dal sole e dal vento e quindi mantenerla morbida ed elastica pensate che nelle razioni agli operai era prevista una dose di questi oli e unguenti proprio perché per le condizioni diciamo atmosferiche che avrebbero incontrato nell'ambito del loro lavoro e per la fra gli oli diciamo che erano più utilizzati ce n'era uno fatto con i noccioli dei frutti del dattero del deserto quindi ce n'erano molti oppure un altro che era estratto dalla noce della moringa e per la preparazione invece degli unguenti quindi gli oli una cosa gli unguenti un'altra si utilizzavano i grassi animali in particolare il grasso di bue di pecora e di oca e cosa se ne faceva dunque questa bella diapositiva dimostra un uso è particolare del trono di uno di uno dei troni di Tutankhamon era in legno realizzato in legno ma rivestito ricoperto da foglia d'argento e d'oro fate conto che l'argento è anche più prezioso dell'oro vedete l'argento è utilizzato per le vesti sia di Tutankhamon che della moglie la regina Anekesenamon e le parti invece del corpo sia del re che della regina sono realizzate con intarsi in vetro così vedete le parrucche in vetro blu la scena ci mostra appunto Anekesenamon che sta cospargendo di unguento unguento che è raccolto in quella sciotolina che tiene nella mano sinistra vedete sta cospargendo di unguento le braccia del suo sposo quindi usato per cospargere la pelle ma anche usati questi grassi per migliorare l'applicazione di alcuni prodotti del trucco soprattutto il fard per le guance il rossetto e il col di grasso profumato erano fatti anche eccoli qua i coni i coni che erano posizionati a partire dalla duciottesima dinastia quindi diciamo siamo appunto come l'ho detto metà del secondo millennio compaiono alla sommità avanti cristo naturalmente compaiono alla sommità delle parrucche sia maschili che femminili tutti e due li portavano e con il calore cosa succedeva il grasso si scioglieva e si distribuiva quindi sui capelli colava fino sulle vesti impregnandole di profumo l'effetto che ai nostri occhi sembrerebbe tutt'altro che piacevole invece era molto appezzato e questo stesso sistema in realtà era utilizzato fino a poco tempo fa da alcune tribù del Sudan e dell'Eritrea e di solito quando compare lo vedete il cono ha diciamo questa raffigurazione di colore bianco con queste striature arancioni e marroni che indicano le sostanze odorose di cui il grasso era impegnato abbiamo detto quindi che gli unguenti gli oli avevano un ampio uso in Egitto perché questo clima secco richiedeva un'idratazione continua della pelle per prevenirne naturalmente l'invecchiamento che precoce molti degli oli usati e degli unguenti non diciamo non richiedevano l'aggiunta di nessun aroma erano già profumati di per sé diciamo in altri casi invece per renderne gradevole l'odore si univano delle essenze floreali molto di moda erano fiori di loto il giglio l'iris o la rosa nel resto dovete pensare che fino al IV secolo dopo Cristo quando viene introdotta la distillazione alcolica i prodotti aromatici erano utilizzati cioè erano realizzati usando una base di olio olio grasso a questo olio grasso venivano aggiunti con vari sistemi sostanze fragranti che davano naturalmente il profumo come i fiori le resine le bacche e per esempio i legni aromatici anche si potevano aggiungere in questo modo si ottenevano degli unguenti odorosi che erano l'equivalente dei profumi moderni non esisteva chiaramente il profumo ma a base alcolica e per fare tutto questo gli oli che venivano utilizzati non dovevano essere eccessivamente grassi e più che altro non dovevano avere un odore forte e non inarrancidire perché naturalmente avrebbero compromesso tutto l'operazione e per questo venivano preferiti l'olio di sesamo e l'olio di moringa che non avevano appunto queste controindicazioni fondamentali naturalmente era l'aggiunta delle resine e delle gommoresine perché naturalmente oltre a portare il loro aroma fissavano diciamo la fragranza dei vari ingredienti e fra queste la mirra e la resina di terebinto che abbiamo visto prima in quella ricetta erano particolarmente apprezzate anche per le fumigazioni per profumare la casa diciamo oppure anche le vesti e per la produzione di questi unguenti allo stato solido la tecnica più usata era quella di collocare questi fiori o sostanze aromatiche in strati alterni di grasso fino a che il grasso non era completamente impregnato di profumo e con questo sistema erano fatti i propri iconi di cui vi ho parlato prima fra i contenitori destinati a questi unguenti solidi quelli più diffusi nel nuovo regno sono i cucchiai da cosmetico cucchiai da cosmetico di cui noi abbiamo questo bellissimo esemplare appartenente alla collezione Schifo di Orgini è realizzato in steatite che è conosciuta la steatite anche come pietra saponaria è una pietra molto morbida e da questo aspetto a questo aspetto polveroso si potrebbe dire ecco vedete il cucchiaio a forma di anatra che viene appunto da una delle tombe della necropoli di Soleb e notate la fusione fra la raffigurazione dell'animale e la funzionalità del recipiente perché la realizzazione è effettuata in che modo scavando vedete il corpo dell'animale quindi l'inguento andava all'interno di questa cavità che si era creata e il collo dell'anatra ripiegato viene utilizzato praticamente come una sorta di manico per tenere l'oggetto prof sì c'erano un po' di domande che erano arrivate bene allora ok Martina Carrani chiedeva c'era tante differenze tra i gioiali indossati dagli uomini e quelli indossati dalle donne no ma ne parlerò dopo diciamo che sono gli stessi non è che c'è una caratterizzazione cioè gioielli per uomini e gioielli per donne le tipologie diciamo che sono le medesime ma ne parlerò dopo poi un'altra domanda di Mattia Martini che chiedeva tra le formule che abbellivano il corpo ce n'erano anche alcune che arricassero danno magari che contenessero elementi tossici no no le materie prime ve le ho elencate fra quelle appunto di cui abbiamo parlato e no non ce n'erano elementi vuol dire dannosi per la salute vuol dire no immagino credo di sì no no non ce n'erano naturalmente venivano utilizzati materiali che avevano a disposizione è evidente no poi c'era la domanda di Vittoria Urzi che chiedeva per quanto riguarda la ricetta per togliere le rughe gli ingredienti venivano mischiati tra di loro oppure applicati sul viso singolarmente no gli ingredienti venivano polverizzati a volte mescolati con appunto grasso come ho detto per veicolarli oppure messi in una mucillagine vi ricordate quella del papiro Ebers li inserisce in questa mucillagine e poi spalmati sul viso quindi era un trattamento né più né meno come quelli di oggi utilizzando materiali diversi anche per esempio quella che inserisce la polvere d'alabastro secondo me è molto interessante perché l'effetto è quello di uno scrub perché la polvere naturalmente polverizzata la polvere d'alabastro triturata forniva aveva questo effetto abrasivo sulla pelle poi c'era un'altra domanda di Matilde Guidi che chiedeva ma queste rappresentazioni sono state ristrutturate o è possibile osservarle nella loro bellezza originale che vuol dire queste rappresentazioni cioè le rappresentazioni che cosa intendete gli oggetti che vi sto mostrando credo di sì credo si riferisse agli oggetti mostrati per come prodotti cosmetici no no sono questi che vi sto mostrando cioè no non sono alterati che vuol dire modificati con Photoshop non capisco scusi eh sì chiedeva le immagini viste in precedenza no no dunque l'immagine vista in precedenza se mi parla dello schienale del trono di Tutankhamon l'immagine è quella io non ho fatto nulla se non farvela vedere e e gli oggetti sono quelli del museo per cui anzi vi aspetto in via San Frediano numero 12 potete constatare voi stessi l'etimologia di oggetti che vi ho fatto vedere c'era anche un'altra domanda sempre di Matilde Guidi che chiedeva gli oli venivano conservati in appositi contenitori e ne parlerò fra poco ok avevamo un'altra domanda invece di Alice Marchetti che chiedeva esistevano trucchi particolari realizzati in occasioni speciali magari matrimonio o altro oppure solamente trucchi applicati quotidianamente dunque in occasioni particolari magari il trucco era più accentuato però diciamo per esempio il trucco degli occhi di cui parlerò fra poco era quasi sempre di uno stesso tipo quindi bordo dell'occhio delle palpedre e tratto allungato dell'occhio che è di grande modo ora poi naturalmente non so per particolari cerimonie poteva essere un pochino più elaborato ma questo magari quando riguardava appunto la regina il re ecco in quel caso lì forse ci sarà stata una maggiore cura forse anche nella scelta dei prodotti che venivano utilizzati ecco in quel senso lì bene è arrivato un chiarimento della domanda che aveva fatto prima Mattia Martini che chiedeva tra le formule che abbrima il corpo ce n'erano anche alcune che le ricassero danni e lui diceva la domanda era stata fatta sapendo che per esempio in periodo medievale veniva spesso usato il cianuro per sbiancare la pella ad uso estetico no 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 qui no assolutamente no vedremo che la galena semmai ha qualche problema nel trucco degli occhi ma anzi allora era considerato medicamentoso quindi non rientra nella nella lista dei materiali dannosi ma tanto ne parlo dopo allora procederei con dunque si stava parlando dei contenitori per un guenti solidi e vi ho fatto vedere il cucchiaio da cosmetico delle collezioni gittologiche il motivo dell'anatra lo troviamo anche in un altro cucchiaio questo nelle collezioni del museo del Cairo vedete anche in questo caso tutto di legno abbiamo un'anatra che è spinta da questa notatrice e anche in questo caso il corpo dell'animale vedete è stato scavato per ricavare il contenitore all'interno del quale porre il cosmetico in questione destinato sempre a contenere sostanze cosmetiche è questa coppetta che appartiene alle nostre collezioni lo vedete è stata riintegrata quindi è stata ricomposta e integrata in alabastro calcario questo è il materiale diciamo che è utilizzato perché l'alabastro calcario è il materiale ideale per la conservazione di sostanze oleose come gli unguenti e gli altri preparati cosmetici perché è un materiale idrorepellente quindi che non assorbe il contenuto diciamo e l'olio contenuto all'interno dell'unguento questa particolare forma deriva da un prototipo metallico e doveva essere completata da un coperchio che aveva anche quello una serie di anelli concentrici quindi una decorazione analoga a volte aveva anche un piede questo tipo di coppetta quindi si avvicina a quella che abbiamo vista sullo schienale del trono di Tutankhamen ricordate la regina tiene questa coppetta in mano ma si vede che c'è un piede che fuoriesce nella parte inferiore la seconda tecnica oltre a quella del grasso impregnato con le sostanze odorose è quella della macerazione è una tecnica che è riportata anche da fonti classiche come Plinio e Teofrasto e in questa seconda tecnica fiori e altre sostanze aromatiche venivano immerse in un contenitore di olio o grasso e messo sul fuoco quindi nella seconda tecnica abbiamo l'uso del fuoco quindi dopo la cottura la miscela era diciamo filtrata venivano tolti tutti i residui delle sostanze che erano state aggiunte e alcune fasi di questo processo di produzione ci vengono dal rilievo di una tomba vedete la tomba Tebana numero 175 della diciottesima dinastia e alla vostra sinistra vedete un operatore che sta preparando delle scaglie di legno sta spezzando dei legni per ottenerle delle scaglie naturalmente il legno è odoroso e lo mette a macerare nel vino che è contenuto all'interno di quelle tre anfore il vino poi viene filtrato proseguendo vedete c'è l'operatore che ha in mano un colino quindi sta filtrando il composto che va a cadere in questo recipiente in basso di forma circolare una volta che questo composto è ottenuto si versano erbe spezie triturate e si fanno dei panni diciamo di forma circolare che sono messi a cuocere lo vedete l'omino inginocchiato che sta facendo questa operazione e poi passa il tutto all'ultimo operatore che li mette a cuocere in una pentola continuando a mescolare un'altra scena di macerazione a caldo quindi con cottura l'abbiamo nella tomba di Petosiri qui guardate siamo in un altro periodo assolutamente nel quarto secolo avanti Cristo e si nota anche dallo stile vedete dei profumieri qui al lavoro che è completamente diverso da quello che abbiamo visto prima in questo caso vengono sminuzzate con i pestelli vedete nella scena superiore delle bacche rosse e vengono messi a cuocere scena inferiore in questo grande recipiente con olio o grasso e il recipiente è messo direttamente sul fuoco perché l'uomo in ginocchio alla vostra sinistra sta alimentando il fuoco sotto diciamo questo questo grande contenitore il terzo metodo estrattivo che viene utilizzato soprattutto per la produzione di oli profumati era la sprimitura sprimitura che veniva realizzata usando un particolare tipo di pressa sacco vedete nel primo esempio questo è in una tomba addirittura della quarta dinastia viene usato un particolare tipo di pressa che è fatta in che modo con un pezzo di stoffa di lino a trama la rada e viene strizzato manovrando questi due bastoni guardate ci sono addirittura cinque operatori che fanno questa particolare operazione poi vedete il liquido viene travasato in appositi contenitori in questo modo si spremevano fiori frutti semi pezzi di corteccia tutto veniva infilato dentro a questa pressa e gli oli essenziali che si ricavavano potevano essere usati da soli solito discorso oppure aggiunti a una base grassa ma senza alcun tipo di cottura in questo caso naturalmente e invece nel secondo siamo in un periodo leggermente successivo abbiamo la stessa pressa a sacco che però è collocata all'interno di un telaio un telaio fisso e naturalmente l'operazione è molto facilitata vedete ci sono questi operatori che con un unico bastone fanno strizzano diciamo questa pressa naturalmente queste tecniche cambiano ovviamente si modificano nel tempo e quindi mentre agli inizi si univano praticamente gli oli alla base grassa a freddo a partire dal nuovo regno si predilige invece il sistema che includeva questi procedimenti di cottura e si sceglie anche di impiegare numerose sostanze aromatiche che venivano aggiunte in diversi momenti a diverse temperature alla base grassa quindi la cosa è molto più complessa nel rilievo invece che vi faccio vedere ora abbiamo documentata la spremitura a freddo vedete con la pressa proprio le due donne al centro stanno con i due bastoni stringendo strizzando la pressa a sacco e che cosa c'è dentro la pressa ci sono i fiori vedete di giglio che alcune altre operatrici stanno raccogliendo nella sezione destra di questo rilievo quindi raccolgono i gigli prendono i petali e li mettono dentro la pressa li strizzano e ottengono il famoso olio in epoca in età ellenistica uno dei profumi più noti il susinum era fatto proprio a base di giglio e esiste ancora un altro rilievo sempre al museo del Louvre di Parigi vedete in cui c'è la stessa identica scena e evidentemente doveva essere una tecnica molto utilizzata ma come abbiamo detto per gli unguenti solidi avevamo sono molto diffusi i cucchiai da fconesmetico per gli oli invece ci sono dei contenitori appositi come questo vasetto a staffa delle collezioni egittologiche sempre collezione Schiff-Giorgini vedete anche questo era frammentato quindi è stato ricomposto dunque il vasetto a staffa è in realtà una tipologia vascolare di origine micenea che gli egiziani copiano e lo vedete la copiano nel materiale tipicamente egiziano la faianza mentre invece nel mondo miceneo era utilizzata la terracotta per questo tipo di vaso la forma molto particolare che vedete questi sono alcuni dei vasetti delle collezioni della collezione Schiff-Giorgini sono molti sono sei sono tutti realizzati con questo materiale molto particolare che è la faianza egiziana e ecco veniva realizzata questo è un esemplare integro che ci permette di capire perché era una forma scelta soprattutto per gli oli cosmetici perché naturalmente si poteva regolare il flusso del liquido contenuto dell'olio contenuto all'interno con il dito e per cui si metteva il dito pollice e il medio nelle due nelle due anze e con l'indice si chiudeva e si regolava il flusso della sostanza contenuta all'interno perché la sostanza contenuta all'interno non era banale era di solito una sostanza fregiata e quindi molto costosa per cui questa regolamentazione era molto importante destinata a guenti anche i due vasi che vedete sempre dalla collezione Schiff Giorgini questi però sono di un'epoca nettamente posteriore siamo nel terzo secolo dopo Cristo vengono dalla necropoli di Sedinga quella da cui viene il calice in vetro blu e la statuina di Osiri tanto per dargli un'idea vedete sono caratterizzati da questo lungo collo molto stretto e da questo praticamente corpo ridotto se notate la proporzione rispetto al collo facevano parte di una serie di undici che sono stati trovati davanti alla porta di una stanza funeraria all'interno di una tomba alcuni avevano il corpo rivestito con fibre vegetali un po' come i nostri fiaschi diciamo per proteggere naturalmente il contenitore e erano destinati a contenere balsami e sostanze odorose e naturalmente il vetro si prestava molto a mantenere inalterate le sostanze costituite abbiamo detto da oli e grassi animali però miscelate con queste essenze di fiori di spezie di resina che naturalmente se erano prodotti diciamo di un certo di un certo pregio e quindi dovevano essere usati con con parsimonio con l'introduzione della pratica della soffiatura che avviene alla metà del primo secolo avanti Cristo questi contenitori in vetro diventano di uso generalizzato diciamo e quotidiano e la morfologia naturalmente è legata al tipo di contenuto e alla sua commercializzazione per cui ci troviamo di fronte a unguentari con questo stretto collo lungo perché questo ritardava il processo di evaporazione del contenuto e inoltre favoriva il travaso a piccole dosi del contenuto e tutte queste cose erano molto importanti nel caso di balsami molto pregiati che costavano quindi considerevolmente anche quest'altro inventario delle collezioni quello sulla sinistra lo vedete collo lungo proporzione naturalmente al corpo che qui è globulare schiacciato mentre invece l'altra forma quella sulla vostra destra vedete è una bottiglia monanzata la caratteristica di questa bottiglia cosa è? che ha il corpo a sezione quadrata e era fatto appositamente così perché questa forma del corpo facilitava naturalmente le operazioni di trasporto perché c'era un grande commercio di questi balsami e quindi facilitava il trasporto e anche l'immagazzinaggio per cui bottiglie a corpo diciamo con il corpo a sezione quadrata potevano essere stivate in miglior modo all'interno anche dei magazzini ma passiamo professoressa scusi se la interrompo c'era qualche domanda la prima era di Martina Carrani che chiedeva scusate scusi ma l'anatra aveva un significato specifico credo si riferisse al cucchiaio che ci aveva mostrato prima cucchiaio da cosmetico sì non si sa veramente con sicurezza probabilmente sì era una forma la forma del volatile forse poteva essere preferita però in realtà ne abbiamo anche a forma di stambecco cucchiaio da cosmetico a forma di pesce quindi cioè non è proprio l'unica forma utilizzata io vi ho fatto vedere il parallelo perché il cucchiaio da cosmetico della collezione Schifo Giorgini ha la forma di anatra ecco ecco perché vi ho fatto vedere quello del Musa del Cairo però ci poteva essere di varie forme forme animali oppure in alcuni casi anche persone erano raffigurate e si creava si riusciva a creare nella composizione una cavità dentro il quale andava a finire la sostanza cosmetica e c'è anche un'altra domanda di Matilde Guidi che chiedeva qual è la durata massima che un unguento solito poteva avere a quell'epoca bella domanda dunque non lo so come è possibile stabilirla certo non c'erano i conservanti questo lo possiamo dire non è quantificabile cioè il fatto molto interessante è che ora quando facciamo le analisi di questi resti quando c'è la possibilità naturalmente di analizzare questi materiali si è in grado di capire esattamente da cosa con cosa erano stati fabbricati a parte che naturalmente abbiamo queste ricette però l'evidenza naturalmente archeologica non può che confermare o smentire i dati che ci vengono dalle ricette che ci sono arrivate dai papiri medici però la durata direi che non è possibile preventivarla noi ecco erano finite le domande allora posso andare avanti dunque siamo arrivati a parlare del trucco prima una delle studentesse aveva richiesto appunto questa cosa del trucco degli occhi si truccavano sia gli uomini che le donne esattamente nello stesso modo e si usavano prevalentemente la malachite che proveniva dal Sinai e dai deserti orientali dell'Egitto e la galena che si trovava nella zona di Aswan quindi siamo a sud e lungo le coste del Mar Rosso quindi tutti i materiali reperibili nel territorio egiziano i materiali venivano solita procedura polverizzati mescolati ad acqua a volte con l'aggiunta di grasso o di resina per formare un impasto che veniva applicato all'inizio viene applicato semplicemente con le dita successivamente però vengono utilizzati degli speciali bastoncini che presentano un'estremità a bulbo cioè ingrossata che sono realizzati in materiali diversi allora all'inizio si usa questa malachite che è un ossido di rame di colore verde chiaro poi ben presto si affianca alla malachite il bistro o col che è costituita all'80% da galena la galena è un minerale del piombo di colore nero che serviva naturalmente a sottolineare i contorni dell'occhio quindi la linea della cittura nera come vediamo in questo bellissimo ritratto della regina Nefertari veniva applicata a bordi vedete delle palpebre e lungo il prolungamento dell'occhio e in questo modo qual era il fine? Si accentuava l'intensità dello sguardo aveva però questo uso della polvere attorno all'occhio anche un diciamo una funzione profilattica precisa perché perché praticamente proteggeva l'occhio dalla luce accecante del sole la stessa cosa la fanno anche gli schimesi per il riverbero della luce e fungeva anche da ottimo rimedio per la cura delle oftalmie quindi la troviamo nei papiri medici egiziani proprio per curare pazienti affetti da problemi agli occhi prescritta proprio in molte ricette per la cura degli occhi assieme a sostanze grasse tipo al solito il miele come abbiamo visto e poi altri minerali il risultato dell'applicazione di questa sostanza è molto visibile in questa serie di occhi e sopracciglia della collezione Schifo-Giorgini sempre che praticamente erano decoravano il volto di due sarcofagi antropoidi a forma umana di legno che sono andati perduti per l'opera delle termiti cioè praticamente tutto il sarcofago di legno era ridotto a un cumulo di segatura e quello che è rimasto sono soltanto questi occhi che erano realizzati liri della pupilla e le palpebre in scisto quindi le parti nere in scisto e le parti quindi la cornea invece in alabastro e anche qui vedete abbiamo il prolungamento esterno degli occhi che è staccato prolungamento degli occhi che si può vedere anche in cose di destinata a personaggi molto più di posizione molto più elevata questa per esempio è la maschera funeraria di Psuzenes si trova al museo del Cairo interamente d'oro vedete gli occhi e le sopracciglia sono interziati esattamente allo stesso modo il col fu usato moltissimo diciamo la polvere veniva conservata in appositi contenitori realizzati in materiali diversi ora ne vedremo alcuni e sempre presenti nei cofanetti da toilette che ci sono arrivati caratteristici sono i vasetti con bocca stretta e corpo massiccio ma ci sono anche alcuni a forma di tubetto che potevano addirittura essere riuniti in contenitori multipli e ogni tubetto aveva un'iscrizione magari che lo indirizzava a un unico giorno della settimana quindi ci sono contenitori che hanno materiale e forme diverse che hanno la proprio la specifica dell'uso in determinati stagioni e in determinati giorni caratteristici molto caratteristici sono lo vediamo nella diapositiva questi bastoncini da col mediante i quali la sostanza veniva applicata allora questo bastoncino che vedete è inserito all'interno di un vasetto da col appartengono alla collezione Schiff-Giogini sono stati trovati nella medesima tomba perché evidentemente era diciamo erano complementari in questo all'interno di questo di questo corredo e aveva un'estremità più spessa e arrotondata e la linea di pittura veniva applicata ai bordi delle palpebre e come abbiamo visto è lungo il prolungamento dell'occhio la forma diciamo poteva essere la stessa vale a dire questa però la pietra vedete è nera questo esemplare appartiene alla collezione Piccozzi ma nella collezione Piccozzi c'è anche quest'altro vasetto questo è in breccia vedete che è caratterizzato da questo largo labbro attesa e questa forma in particolare era riservata di solito agli unguenti solidi molto particolare e diciamo che la chiusura di questi di questi vasetti era assolutamente necessaria perché si doveva evitare l'evaporazione della sostanza contenuta nel recipiente quindi laddove non c'è un vero e proprio coperchio sono stati ritrovati addirittura coperchi in stoffa per esempio con un legaccio che bloccava la bocca del vasetto e la proteggeva quindi coperture diciamo non i materiali come uno si aspetterebbe il coperchio preciso che si adatta benissimo alla bocca del vasetto per colorare le guance viene utilizzata l'ocra rossa l'ocra rossa è un ossido di ferro che facilmente è reperibile nel deserto veniva mescolata con grasso quindi al solito vegetale o animale e con resine e in questo basso rilievo del British Museum vedete questa dama che si chiama Iput di nome che stiene stringe nella mano sinistra uno specchio quindi una scena proprio tipica della toilette quotidiana di queste signore e nella destra con la destra si sta applicando evidentemente qualcosa che doveva essere molto simile al fard un cosmetico alle guance la stessa sostanza quindi a base di ocra rossa serviva per pitturare per truccare le labbra come rossetto lo specchio naturalmente era assolutamente fondamentale per tutte queste operazioni e compare già nell'antico regno quindi nel primo periodo della storia egiziana questi oggetti potevano essere inseriti all'interno di apposite custodie oppure anche in sorta di beauty case come questo che vedete di chemeni così si chiamava questo alto funzionario questa è conservata al Metropolitan Museum di New York vedete nel ripiano superiore c'è lo specchio poi c'erano altri due scomparti e nel ripiano inferiore i vasetti vedete della forma quella che vi dicevo prima che è documentata nella collezione Schifo Giorgini in breccia questi invece sono in alabastro questi hanno il loro regolare coperchio alla sommità quanto riguarda lo specchio lo specchio che vi mostrerò ora che appartiene alla collezione Schifo Giorgini ecco questo è un altro degli oggetti più significativi e importanti delle collezioni egittologiche è un esemplare unico non ci sono oggetti simili a questo in bronzo vedete il disco è completamente rivestito di foglia d'oro che naturalmente veniva lucidata e quindi la persona si rifletteva su questa foglia d'oro purtroppo l'impugnatura è perduta e rimane questo elemento verticale che si chiama tenone in bronzo che doveva essere inserito appunto all'interno del manico che doveva avere la forma diciamo di vari gambi di questi fiori e boccioli di loto che costituiscono il bouquet alla base del disco quindi probabilmente l'impugnatura forse in avorio potrebbe essere in avorio raffigurava gli steli diciamo di questi boccioli e fiori di loto notate che sui boccioli e fiori di loto ci sono degli incrostazioni di fili di oro di rame e di elettro l'elettro è una lega antica non si trova più in Egitto di oro e argento e il tutto questo bellissimo bouquet era completato inferiormente da due vedete elementi circolari dentro i quali dovevano stare due pietre preziose che però purtroppo non ci sono arrivate come mai il fiore del loto si trova lì perché il fiore del loto blu che ogni mattina si apre per richiudersi poi ogni sera era associato con l'apparizione del disco solare nel cielo quindi costituiva un simbolo di rinascita e di rigenerazione per eccellenza e ancora diciamo più naturale era l'associazione del disco dello specchio con l'astro solare ovviamente no? Lo specchio era protagonista di molte scene abbiamo detto di toalette questa per esempio che vedete viene dal sarcofago di una principessa una delle mogli di Montuotep II siamo nel Medio Regno vedete stringere la mano sinistra lo specchio una ancella sta completando la sua acconciatura e lo specchio servirà appunto a verificare la correttezza di questa operazione e la principessa Kawit sta bevendo il liquido che viene versato da un servitore vedete all'interno di una coppetta lo specchio naturalmente era un strumento assolutamente indispensabile anche al momento di indossare collane e orecchini che naturalmente allora come oggi abbellivano il volto dei vivi ma anche il volto dei defunti ed ecco perché ci sono arrivati nei corredi funerari molti oggetti riconducibili a queste tipologie la serie di pendenti che vedete nella diapositiva in oro di aspre e cornalina apparteneva a un grande collare a più giri naturalmente una parte ricordatevi sempre di quello che vedete si trova al museo di cartoon e vedete sono raffigurati dunque i pendenti in bronzo raffigurano gli urei che abbiamo visto precedentemente simbolo della regalità e poi ce ne sono tre che hanno la stessa forma in oro che hanno la stessa forma degli altri cinque che sono in diaspro e riproducono con ogni probabilità capsule di papavero da oppio anche qui c'è l'ipotesi potrebbero essere fiori da lisi oppure potrebbero essere frutti di melograno molto probabilmente quando si tratta di queste due altre categorie ci sono degli elementi che li identificano per esempio nei fiori da lisi la corolla in fondo qui non ci sono per cui l'identificazione con la capsula del papavero da oppio è probabile anche perché era un tipo una tipologia molto in uso in questa in Nubia quindi nella regione a sud dell'Egitto in questo periodo nei corredi funerari ci sono anche molti orecchini ad anello vedete sono in conchiglia oppure in diaspro o cornalina forse li vedete meglio nella prossima diapositiva sono praticamente orecchini molto particolari caratterizzati lo vedete da una fessura attraverso la quale venivano indossati al lobo infilati al lobo dell'orecchio sono stati ritrovati in molte necropoli questo questo tipo di orecchini però in alcuni esemplari la fessura è talmente stretta che è praticamente impossibile infilarli al lobo dell'orecchio per cui alcuni studiosi hanno pensato che si tratti di ornamenti dei capelli comunque la questione è stata risolta perché è stata trovata una mummia che indossa alle orecchie questi orecchini ad anello e quindi l'uso in questo caso è stato sicuramente confermato e dimostrato fra dunque sono abbiamo detto in conchiglia vedete i bianchi e in diaspro e cornalina i rossi naturalmente non potevano mancare nei corredi delle tombe di Soleb i anelli anelli di molti tipi un tipo però molto diffuso è questo che vedete a staffa questo è l'esemplare più bello in argento naturalmente quindi abbiamo detto il metallo prezioso per eccellenza e presenta in questo caso l'iscrizione in geroglifico con un inno alla città di Tebe non riconducibili alla categoria dei gioielli ma sicuramente molto preziosi questi sono due scarabèi che vedete all'interno della vetrina assieme allo specchio vengono questi dalla necropoli di Solebbe sono il primo uno scarabèo in steatite quella pietra che abbiamo visto era quella del cucchiaio da cosmetico a forma di anatra però rivestita da un'invetreatura verde questo scarabèo di un tipo molto particolare sulla base si trova l'iscrizione che ricorda l'iscrizione in geroglifico che ricorda l'uccisione di 102 leoni in dieci anni di regno da parte naturalmente del sovrano che è Amenofi III l'altro scarabèo molto importante è un oggetto completamente diverso in scisto nero vedete anche questo ha l'anello di sospensione per cui si presuppone che venga appeso naturalmente a una collana al collo perché questa è la funzione dell'anello di sospensione sulla base invece abbiamo ancora un'iscrizione geroglifica questa volta però è il capitolo 30b del libro dei morti capitolo con il quale il defunto chiede al proprio cuore di non testimoniare contro di lui cioè di dire che era stato bravissimo che aveva condotto un'esistenza esemplare che non aveva fatto nessun tipo di peccato diciamo al momento del giudizio di fronte cioè una volta arrivato nell'aldilà di fronte al tribunale divino a capo del quale c'era naturalmente il dio dei morti il dio Osiri lo scarabeo del cuore era posto in corrispondenza del cuore della mummia quindi fra le bende o immediatamente sopra il corpo del defunto e aveva un ruolo molto importante per la vita che aspettava il defunto dopo la morte tanto aspettata questa vita questa seconda possibilità di vita dopo la morte e quindi era molto importante che si trovasse esattamente in quel luogo e esattamente con questo testo iscritto bene io ho concluso la mia il mio approfondimento e vi do anche la traccia per il che vi occorre il cui titolo è il mondo della bellezza nell'Egitto dei faraoni penso che siate benissimo in grado di di svolgere questo questo approfondimento bene vi vi ringrazio professoressa c'era una domanda di Martina Carrani che chiedeva quali erano i canoni di bellezza per quanto riguarda il colore della pelle dunque la pelle dunque i canoni cioè come venivano raffigurati gli uomini venivano raffigurati con pelle di colore rosso mentre le donne venivano raffigurati con pelle di colore rosa quindi allora come oggi la pelle doveva essere chiara credo che questa sia il senso della domanda non lo so e la pelle delle donne doveva essere chiara però ricordatevi che l'Egitto è un paese molto particolare per cui il sole non manca e il colore della pelle naturalmente risente anche del clima certo la regina che viveva bella tranquilla sotto i suoi tendaggi non prendeva il sole allora se non ci sono altre domande ringrazio moltissimo la professoressa Flora Silvano e do la parola a Damiano Barzotti grazie professore palestri allora io e Tommaso nei giorni precedenti siamo consultati e abbiamo selezionato degli studenti che a nostro giudizio hanno partecipato in maniera più attiva e dinamica durante questa seconda settimana quindi Vittorio Ferra Giulia Callari Mattia Martini Matilde Guidi e Martina Carrani sono i vincitori di questa settimana e hanno diritto ad un abbonamento all'Orto Botanico di Pisa per famiglie annuale ed è ritirabile al bookshop dell'Orto Botanico da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17 portando un documento di identità grazie Damiano e grazie ancora a tutti gli studenti che oggi come nei giorni precedenti ci hanno consentito di partecipare in maniera attiva a questo incontro grazie di nuovo alla relatrice la professoressa Silvano e ringrazio ancora tutti i registi che nel corso di tutti questi giorni si sono alternati non li vedete sono dietro le quinte ma solo grazie a loro abbiamo potuto avere queste connessioni così ben strutturate e quindi li ringrazio e li nomino Davide Mustaro Emiliano dalle piagge che ci accompagna la regia proprio oggi Vladimiro D'Angela Antonella Ficini Francesca Gelichi e Alessio Sbrana grazie davvero a tutti i registi e i tecnici di Medi Eventi dell'Università di Pisa a questo punto vi ricordo l'appuntamento ci fa piacere appunto quanto è stato scritto dalla docente del liceo scientifico Dini ringraziamenti nei confronti della professoressa Silvano vi ricordavo l'appuntamento con l'incontro di chiusura del nostro percorso per le competenze trasversali e l'orientamento lunedì prossimo lunedì prossimo sempre alle 15 ci incontreremo il dottor Cristian Greco direttore del Museo Egizio di Torino che appunto ci parlerà dell'evoluzione digitale e umanesimo ringrazio ancora tutti per l'ascolto per l'attenzione per la nutrita partecipazione e a questo punto ci vedremo lunedì prossimo grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.